Nuova avventura. Dopo un'annata esaltante, culminata con la finale play-off per la 1 persa con la corazzata San Giovanni Valdarno, riparta all'insegna di tante novità, ma anche di una rinnovata ambizione, pallacanestro femminilumbertide nel campionato di A2 di basket femminile. Pietra Angolare resta a coach Michele Staccini, premiato con assoluto merito come miglior tecnico dello scorso campionato e primo tassello da cui è voluta ripartire la società. Per quanto riguarda il roster, la scelta è stata di cambiare un organico che nel corso degli anni aveva dimostrato una crescita esponenziale, nonostante la giovanissima età. Hanno salutato Capitan Giudice, Moriconi, Caprini, Baldi e Cotnis, di fatto un ipotetico quintetto titolare e sono arrivate ragazze tutte nate tra il 2000 e il 2003, a testimonianza della volontà di fornire continuità al progetto. Quindi ecco la playmaker Cupellaro, le guardie Boric e Scarpato, le ali D'Angelo e Avonto e il pivot Savatteri. Sei nuovi arrivi che dovranno amalgamarsi con le giocatrici confermate, ovvero le giovanissime Bartolini, Gambelunga e Cassetta, la guardia Stroscio e le due autentiche veterane del gruppo, la play Pompei alla quinta annata in bianco-blu e l'ala Paolocci alla settima stagione in maglia Pfu. Quest'anno siamo una squadra completamente nuova perché rispetto all'anno scorso siamo rimaste soltanto tre giocatrici. Siamo un gruppo molto giovane, calcolando che io sono la più anziana, tra virgolette, che ho 24 anni, però con un gruppo giovane si possono fare tantissime belle cose e lavorando duro ogni giorno ci possiamo prendere delle belle soddisfazioni. Sicuramente non è facile perché essendo tutte nuove non tutte erano abituate a giocare a certi ritmi o a certe situazioni, però ovviamente noi lavorando, allenandoci più di una volta al giorno e provando sempre diverse situazioni, anche con le ultime amichevole siamo riuscite a fare del bel gioco e diciamo che ormai siamo tutte amalgamate. Abbiamo rinnovato completamente il gruppo, abbiamo preso tutte ragazze giovani, tutte ragazze che hanno voglia di lavorare sul campo e vogliono dimostrare soprattutto che possono vestire questa maglia perché questa maglia è veramente importante soprattutto per me che sono sette anni che sto qua e quindi vorrò sicuramente trasmettere a loro tutta l'energia e tutta la volontà a indossare questa maglia. Prima giornata sabato 8 ottobre alle 15.30 in Terra Sarda sul parquet di Cuscagliari, mentre la prima gara casalinga è fissata per domenica 16 alle 18 contro Ancona in un palamorandi pronto a tornare a sostenere e sospingere le proprie beniamine. Già l'anno scorso in finale playoff, tutte le finali dei playoff, era pieno il palazzetto, cosa che purtroppo durante il covid ci è mancato veramente tanto, soprattutto una piazza come Unbertide che è rinomata soprattutto per il suo pubblico e le persone sono molto calorose e fanno sentire l'affetto dalla squadra soprattutto, quindi speriamo veramente che già la prima di campionato che avremo qua in casa sarà il palazzetto pieno perché noi l'aspettiamo. Sicuramente fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso sarà molto difficile, però è quello che è il nostro obiettivo perché vogliamo sempre alzare l'asticella, vogliamo sempre cercare di fare meglio. Già da sabato sarà difficile andare a Cuscagliari e vincere la partita e portarla a casa, però abbiamo voglia di lavorare, abbiamo voglia di dimostrare che comunque anche se la squadra è cambiata e l'anno scorso abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, quest'anno non siamo di certo una squadra da meno perché siamo giovani, anzi vogliamo fare sempre di più.